Mi sia consentito dire, con serena consapevolezza, che politica e pittura sono indissolubilmente intrecciati nella mia modesta personalità. Infatti, come Raffaello Sanzio frescò le stanze del Vaticano, io ho più volte rinfrescato le camere di Montescitorio e di Palazzo Madana, con formule politiche sempre più nuove e originali. Inoltre, se Giotto è noto come maestro del colore, io spero di essere ricordato come maestro del monocolore.